musica oddio stiamo iniziando dai 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 velocità subito che finano giudati a questo stronzo tutti che ci vogliamo bene mori male mamma mia peppe vendicato il support martellate a caldo solo perchè non si può difendere non so come l'unica cosa che può incidere sono i primi spostiamo l'ulti ce l'ho quasi sempre ma non c'è un chita che cazzo sono i medikit sono già i medikit c'è che ecco che l'ho visto passare mamma mia antica roma vabbè sono già full ma va ma roba davanti nooo stai morendo come fish non se lo sape nessuno attenzione no bastardo no due contro uno via peppe via attenzione ora in danni signori mi vergogna diciamo mille dondi dondi arrivo sono anziano no peppe no 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 allora ragazzi gruppiamo qua da me che ho l'ulti e piazza la velocità che urina da solo qua eh ok dobbiamo aspettare altri dodici si può no imbarazzante come venite qua vicino al carico che riuscire da questo trozzo ok sono caduto no c'è il macello sei da solo mister si stacchiamo la testa c'è lucio qui prende il lucio no 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 aiuto 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 no guarda il martello di uomo no sento che cazzo di troiaio no no non è che hai visto questo figlio dove è arrivato com'è quella viva allunzioni vinto c'è veramente vinto a 35 cose siamo che fugge corriamo corriamo no ma è tipo competitiva cioè dopo loro devo fare stessa cosa qui c'è il calozzo bastato qualcuno deve sempre tenere il porca puttana qualcuno deve sempre tenere il costuro per il martello che sfigato tutti sono per lui che qualche combatte cioè abbiamo un real dietro oddio non abbandone spostiamo questo carico nessuno sul carico no io ci sono ma avete un rinno dietro che battuta aiuto giungerai sul carico ma non si aspetta forse il pin a caso pin a caso che cazzo è un nemico pensavo fossi tuo simo io ero appena da un orto che cazzo ti sciolgo l'uso di merda vuoi anche le tue magari eh ah mi sento proprio uccide con l'usia no ma qualcuno mi ha scritto no ma mi sono tutto fatto su un pin che imbarazzo dai usate qualche ulti usate qualche ulti usate qualche ulti dai dai ragazzi ho calato abbiamo un rinno su carico 60 secondi ok un rinno è morto sento cala da l'instanza mica sono rinato adesso cazzo ci vengono sei anni ad arrivare no ma perchè sempre sti pin a caso me li prendo io so se prendo il punto sbagliato auto nowhere pin a auto nowhere veramente non ho preso nessuno mi barazzo su se che ha blam lui se muore male nooo uccidete il luce in one shot nooo pezzo di merda ti stacco la testa dove cazzo lucio il 35 per ucciderlo dammi uccido ma baciami le punte ho finato talmente lontano che non ho trovato un muro attenzione anche auto nowhere che si spieta sua fontana ci piace gente che si bacia la eh si bacia no mi ha detto questo lorincisi vado 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 ciao ciao minchia un bagliato mira ragazzi dove cazzo sono negli stronti no no per favore sei vivo vado a flaccarmi no bastardo mamma mia che tendente è qui no no vabbè mi pinano ogni due secondi però non è vaglio sono tutti a metà vita picchiatevi tutti checo staccagli lano e vabbè ulti grande che cosa la mazza sei il mio eroe c'è un lucio qua dentro anche da dietro che sto cercando ragazzi qualcuno sul carico appena la fate si come dico tutti là dentro andiamo là dentro questo è veramente uno scorta il carico carico uno di noi nooo calato di merda davanti no devo andare un po' a sucurarvi devo stare sul carico io io da cammini ho dedicato a uno stemma di una macchina che vogliono tutti io buono circondati attenzione nooo ma questo pinnado come l'hai fatto tizio fammi capire in quale il design con la mia ultima non ho preso niente imbarazzante si è ucciso su uno finalmente eh si ce n'erano di troiai portate il carico è fermissimo c'ho un raga sul carico se no stavo sul carico io nooo mi ha calato solo per me ho ucciso l'ultimo spingili lontani ci provo un metro a io no c'ho un raga sul carico mi vuole salve cosa cazzo sta succedendo lì dentro picchiata quella ci hai saltato solo sul carico veramente c'ho un raga sul carico vai vai fin genere mi siamo baciati adesso farò un cala dal cielo ucciso l'ultimo oh nell'occhio cala dal cielo un po' prima sarebbe stato bene ok simu quanto è kill hai perchè è imbarazzata mi sei vista che sei giunto kill a mano 19 ho l'argento ho vinto ho 19 skill 9 sull'obiettivo oro nell'obiettivo le cure per forza questo non fai sto arrivando oh no da dove non lo fissa neanche e vabbè vorrei mi sto sempre sotto interno di terra e vabbè ok un Reinhard è morto attenzione Zedino ci lascia io sono morto attenzione siamo rimuoto solo sul carico ecco i grandi viaggi che lo portano su nulla no no non ce l'ha fatto dopo aiuto dai usci la velocità ma che cazzo l'altro sono con te che ti aiuto mi sono di nuovo morto mi sono bordele qualcuno sneaky sneaky deve portare il carico ah porca puttana gravi sneaky sneaky qualcuno rimanga sul carico cazzo nooo sono morto serie di 14 ci sono come mai è impossibile stampare i con luci c'è loro in kill no ma perchè le mie sono tante partecipazioni nelle uccisioni eh eh si però devi vedere i colpi di grazia voglio vedere si pepe tienilo dietro nooo sono tutti incazzati come iene andri stiamo sorveglietta contro il mondo ah il bel motivo il bel motivo di una volta bello questo pin ci siamo guardati nooo sono morto nooo si ma mi devi aiutare con questo figlio del culo ma porca eh no io sono morto ah eri tu dietro di me anche lol no no mi nessuno calo dal cielo riega riegruppate non ho nessuna medaglia che imbarazzo Merda abbiamo 36 secondi 30 sì sì vogliamo fare l'ulti devi avvertire che c'è dai che ci c'è dai è l'ulti è l'ulti correte vai iiii c'è entrato mi accalati le meccanelle fichia nooo c'hai tipo dai un ulti di lusso non sognate bastardi aiuto aiutate picchiate si vado solo con qualcuno uno dei nostri ok un altro morto sul carico sul carico aiuto quanti mi guardano in maniera troppo sexy aiuto carico ci sono 13 sul carico vai vai a cavo dai che torno dai che torno no lusso di merda perché non ti cade il culo dai puzio no si ma va bene c'era la tua scritta no no ero morto c'era la tua scritta c'ho preso un sacco mazucchia va 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 va